Il mio collaboratore Nicolo Stazzi ha trovato questa storia fortissima, quella di Ovidio Marras, che comunque era abbastanza conosciuta in tutta Italia, la storia di questo pastore sardo che si è ribellato contro una multinazionale per difendere la sua terra e ha fatto un processo come Davi contro Golia e a quel punto ci siamo ispirati da questa base per poi trasfigurare la storia e trasformarla al femminile, quindi abbiamo un'eroina donna, una ragazza pastora che fa questa battaglia impari, fisica e poi legale.